Ciao, in questo video ti mostro uno dei metodi più facili per fare budget, cioè gestire i tuoi soldi al meglio e pianificare le tue spese, senza lasciarti prendere da eccessi o da impulsi. Questo metodo di budget è chiamato regola 50-30-20 ed è un modo molto bilanciato per gestire i tuoi soldi. Perciò, lascia un bel like nel video e iniziamo! La regola 50-30-20 dice che il 50% dei tuoi guadagni mensili può essere speso nelle tue necessità, il 30% dei tuoi guadagni mensili può essere speso nei tuoi desideri e il 20% dei tuoi guadagni mensili può essere speso per i tuoi progetti finanziari futuri. Ok quindi, il video finisce qui. No, scherzo, scherzo, c'è ancora molto da dire, aspetta! Prima di tutto è importante capire che questo metodo di budget considera le tue entrate nette, cioè quello che effettivamente ricevi. Se ad esempio hai uno stipendio, non devi considerare la tua busta paga lord, ma la tua busta paga netta, nel 50% di necessità. Lo specifico perché altri metodi di budget ci consigliano di considerare le nostre entrate complessive lorde e poi le tasse che paghiamo su queste entrate vengono determinate come spese, spese che sono necessarie per noi. Per la regola 50-30-20 non è così. Consideriamo le entrate nette e la regola è molto semplice da applicare. Quindi, secondo questo budget, la metà delle nostre entrate nette va per le nostre necessità. Le nostre necessità compongono le quattro mura dei nostri bisogni primari. Da un lato ci sono le spese per la casa, dall'altro ci sono le spese per i vestiti basilari, da un lato ci sono le spese per il cibo e per l'acqua, e infine ci sono le spese per i trasporti. Queste quattro categorie di spese sono tutte necessarie e vanno incluse nella categoria del 50%. Queste sono quattro macro-categorie, ma potrebbero esserci altre spese necessarie da considerare in questo 50%. Ognuno ha le proprie esigenze. Le necessità includono le bollette, includono le tasse sulla casa, includono tutti quegli acquisti di cibo e acqua per sopravvivere. Inoltre, consideriamo la nostra auto, ci sono un sacco di spese come le tasse, l'assicurazione, le riparazioni, soprattutto la benzina. Infine ci sono i vestiti, non vestiti firmati, ma vestiti basilari per essere protetti. Il 30% delle entrate puoi utilizzarlo come più preferisci. Videogiochi, cene fuori, abbonamento Netflix o abbonamento e ricarica del cellulare. Tutto ciò che vuoi, hai il 30% di quello che guadagni per te stesso. Il restante 20% dei tuoi guadagni viene investito per raggiungere i tuoi obiettivi di lungo termine, come ad esempio l'acquisto di una casa, oppure il tuo obiettivo di vivere di rendita finanziaria. Per chi è questo tipo di budget? I principianti che si approcciano alla gestione delle proprie spese possono trovare questa regola molto semplice da applicare, senza distrarsi in metodi molto più complessi e magari meno efficaci. Inoltre, questo metodo è utile solo per chi non ha debiti. Me ne parlo tra poco, perché prima voglio parlarvi di come questo metodo di budget può fallire. La regola 50-30-20 richiede di distinguere ciò che è un bisogno, una necessità, da ciò che invece è un desiderio. In alcuni casi le persone potrebbero trovarsi in difficoltà a stabilire quali sono le proprie necessità e quali sono invece i propri desideri. Se tu capisci che non sei in grado di fare questa distinzione in maniera netta ed efficace, molto probabilmente questo metodo di budget non fa per te e dovresti passare ad altri metodi. Inoltre, il fallimento nell'applicare questo metodo di budget è dietro l'angolo per chi ha dei debiti verso altre persone o banche. Ciò che vai a spendere ogni mese per ripagare il tuo debito verso altri potrebbe farti superare la soglia del 50% e anche di molto. In alcuni casi, questa soglia potrebbe andare a superare e a comprendere l'intero 30% dei tuoi desideri, lasciandoti anche senza la possibilità di utilizzare il 20% di quello che guadagni per i tuoi obiettivi finanziari futuri. Questa è la posizione peggiore in cui tu possa mai essere, perché non riuscirai nemmeno a costruirti una seconda entrata dai tuoi investimenti e quindi il tuo debito ti perseguiterà per molto molto tempo. Se sei indebitato, molto probabilmente fallirai con la regola 50-30-20. Non fa per te. Dovresti cercare altri tipi di budget. Se invece questa regola fa per te, potresti essere molto felice di poter utilizzare il 30% di quello che guadagni per i tuoi desideri e il 20% utilizzarlo per investire e per i tuoi obiettivi finanziari futuri. Ecco quindi la semplice regola 50-30-20. Se ci sono altri metodi di budget che volete conoscere, fatemi pure sapere con un commento sotto a questo video. Inoltre, se questo video ti è piaciuto, lascia un bel like. E se sei nuovo sul canale, iscriviti e attiva la campagna di notifica per non perderti i miei prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per aver guardato.